La medicina e il teatro è un elemento che si inserisce tra le attività finalizzate per il territorio. Il nostro territorio, come sapete, è molto provato, soprattutto in questo periodo, nel discorso dell'Agnanto, tutto quello che ne è seguito e quindi abbiamo bisogno di portare avanti delle iniziative che siano serie ma nello stesso tempo ugualmente. Queste serate che noi abbiamo organizzato qui a Carugia hanno questa doppia funzione. Da una parte si parla di argomenti seri come quelli della medicina sotto un aspetto divulgativo ma concreto e dall'altra parte c'è però questo aspetto teatrale che è un altro aspetto della realtà che in qualche modo cerca di sdramatizzare le questioni pesanti. Ecco, questo è lo scopo che noi abbiamo cercato di portare avanti e lo stiamo facendo nel migliore dei modi e lo stiamo facendo anche con il contributo di tanti, non solo amministratori, collaboratori ma anche tutti i sindaci del territorio, soprattutto i sindaci dei piccoli comuni. Grazie.